Con grande onore ed emozione che io e mio fratello Santo vi presentiamo, che lo conoscete benissimo, Maurice Bejar, che ha creato questo balletto in memoria di nostro fratello. Ci avviciniamo tutti con molta emozione all'appuntamento di domani sera. Maurice per noi fa parte della famiglia, per cui non c'è un momento, per noi non esisteva un modo migliore e per ricordare Gianni, anzi per celebrare la sua vita, che era fatta di moda, di arte, cultura e di umanità soprattutto. Bejar è un grande, è un grande nel suo campo, ma soprattutto è una grande persona, un cuore generoso, come dice il titolo del balletto che ho creato per Gianni. Grazie a Gianni con amore. Grazie a tutti.